Si chiama Run4EU, 78 atleti in corsa per l'Europa, manifestazione organizzata dal comune di Gazzo, capofila, con il locale gruppo podistico della Proloco e l'associazione Amici del Brenta di Piazzola. Partner europei, Romania, Ungheria, Slovenia e Francia, attesi gli sportivi delle grandi imprese, le runners di Run4EUV, l'ultra maratoneta Paolo Venturini, gli alpinisti Vicentini, Mario Vielmo e Tom Perry, che parteciperanno a un progetto a sostegno della mobilità di atleti, volontari, allenatori e personale di organizzazioni no profit, con l'obiettivo di fornire un evento paneuropeo, promuovendo al contempo uno stile di vita in aree rurali remote, piccoli villaggi o città situate nelle aree periferiche dell'Europa. Partiremo il 24 da Gazzo in aereo per la Romania, per la città di Mioveni. Faremo due giorni in Romania, poi passeremo in Ungheria, in Slovenia e saremo qui a Gazzo per il 30 e il 31 agosto. La mattina del 31 agosto ci sarà una conferenza con persone famose e grandi sportivi. Nel pomeriggio la marcia qui nei nostri territori dalle 4 alle 5 la partenza e vi aspettiamo numerosi. E a Gazzo nella marcia conclusiva ci sarà anche la fiaccola olimpica firmata dal Dalai Lama portata in alta quota, che correrà anche nel comune dell'Alta Padovana, dove per l'evento è atteso almeno un migliaio di partecipanti.